BOSCO BESTEMMIANTE Andiamo? Bosco bestemmiante Ok, ok Così facciamo tutte e due le ultime località che poi andiamo a l'altra che non mi guardo in schia quella sotto a striscia centrale la striscia di casa esatto bombardato io se mi chiamo Omar Ah, non devo ricordare che andavo più basso cioè devo questo posto è quello che mi ricordo più iconico assurdo delle vecchie mappe tranne che ora c'è il furgone abusivo fuori l'hai visto? Quello dell'animazione Devastiamo tutto il labirinto poi questa è una delle poche zone che ha delle cose costruite C'è delle costruzioni C'è delle costruzioni robe già piazzate che posso modificare Ah, sì Forse non ce ne sono più forse non so se ci sta il lama quello là Ah, sì sì anche il lama è vero c'erano più robe una volta modificabili Comunque penso di no cioè non ci ha fatto credo comunque penso di no sto per fare una sostituzione Sei pronto? Vero Un upgrade Ecco qua nuova forte minchia Ah qui c'è un altro nano da prendere Impregionato Io lascio una cappa bianca se vuoi eh Eh l'ho trovata anch'io bianca Ciao Boh non c'è più niente da prendere passiamo qui a refugio ritirato C'ho scudino Ha sparato davanti Io ho scudo grande te l'hai dato te Ah no sto prendendo i funghi I funghi Ma che poi tra l'altro li puoi raccogliere e portare con te Si una volta non si poteva fare Io non capisco questa roba cos'è Tu te le ricordi No Ma che cazzo ma c'è qualcuno? Oh merda Non pensavo che ti ha sparassi Non avevi Pensavo che ti dava qualcosa se ci parlai A me che l'ho visto che si ci faceva delle delle distorsioni come si dice Delle Delle Interferenze ecco digitali quindi pensavo fosse solo un hologramma Invece no era vivo Eh qua ci sta qualcosa Un gnomo Però qui è aperto quindi ci sono state persone C'è la porta aperta che non si ma esatto nel che era possibile che ci sono e il no ha il che da ho scudone non lo bevi manca 5 di vita di scudo volevo prendere un fungo non so se i funghi si possono accumulare al massimo non mi ricordo eccolo qua pure qua questi liro a no si possono accumulare più di 50 funghi si era un mitraglietto ma hanno sparato si porca troia ah ma noi tra l'altro ah è un bot quindi si sono abbastanza uno è morto però non li vedo l'ho ucciso con le funzionanti ah ma so tu è si e l'altro è lì dietro lo vedo ok dove scappato dove scappi dove scappi arrivo andiamo ma che è sta musica togli non so come si fa eccolo ammazzo non si toglie la musica r ma non c'era niente questo mi sa che abbiamo raccolto uccidendo i colpi sempre li raccogli quando lo acciacchi boh ho sbloccato tutta la qualità comunque si bello devo fare mattoni vediamo se c'è un deposito di mattoni guarda che parte andiamo qua non ci sono ancora andato però non lo segno come zona da sbloccare nel senso che ho sbloccato uh furgone e io ho la R sempre scarico sono quattro volte che lo carico c'è un altro qua ho scudone ma ma anche scudini vado evidentemente me lo potevo portavo da buon ma che cazzo conto è pagato da quelle questo guarda qui se ci spugno sospetto ora andiamo a realizzare ma che cazzo ma una follia hanno copia incollato questa roba sulla mappa vedi quel spugno là sembra strano non lo vedo ah questo no non è un giocatore però era strano oh qui sparano ho sentito spari anche questo è iconico come roba questo qui penso che sia il primo punto in cui sono morto mi sa c'è proprio una stagione 2 il primo punto in cui sono morto è questo non mi ricordo penso che si no non so neanche se c'è un video ho dei ricordi molto confusi devo andare a controllare come funziona il campino ah ok è come spider ah si si infatti non mi sembrava un rampino da rampino qui c'è la penditura la vogliamo usare la vogliamo usare non mi sembrava un mi sembra non me sembrava un nascimento non mi sembrava un po' non mi sembrava un passolo non mi sembrava un buco si non mi sembrava un auguro sono pieno di ferro vabbè noi siamo lo vuoi? eh no non posso prenderlo vabbè prendi a finitura ah merda ma è durata pochissimo ma che penso ma alcune durano un botto come possibile non importa facciamo finta che non sia successo vabbè abbiamo detto che andiamo a piedi a corso commercio devo imparare a slideare di più qui ci sono funghi un po' un po' verde e blu quello si perfetto come si regge in piedi? non lo so ah c'è una scala lì dietro l'albero c'è una scala qui ha un combattuto di brutto sembra pinnacoli che cazzo si l'ho visto io devo fare cadere quel pezzo non so tu eh si è qui da me è qui da me qui da me qua sono due che cazzo è successo? eh mi pusha mi sto scudendo provo a recuperarti anche tu ehm no arrivo ok ho preso l'altezza non è vero non è vero ci sono altre squadre? si madonna io so ma tu dove sei? sotto il te ok devi unirmi a te non mi farebbe oddio oddio uno confermato bene puoi chiudermi il muro che mi sto curando qua ah non riesco vabbè ho finito merda ci stanno saltando vuoi che bella si si mi ha detto te aspetta tu dattolo io provo a curarti a coperti uno è confermato no? quello che ho ucciso io me l'hai confermato o è morto la sua vabbè comunque cioè io ho visto un'eliminazione quindi un loro compagno è morto ci sono due squadre ok qui è tutto nostro questo no si sono sono qua qui davanti stanno rompendo hanno rotto eh alterato distrutti testa di cazzo madonna ma che hai fatto arrivano altri arrivano altri oh merda ho visto c'era qualcosa ora l'hai preso tu? no io non ho preso nulla ho visto qualcosa di oro merda no allora me la son sognata a meno che non è finita qua sotto ok qui c'è una prenditura la prendiamo? si può c'è qualcos'altro da prendere? no vai andiamo anche perché dobbiamo andare via bene dove prendiamo? dove andiamo? qua è quella situazione un po' più vediamo se c'è qualcosa vediamo se c'è qualcosa scudo grande te te nooo ho messo la corsa automatica stava cascadata da fortino comunque siamo messi io li siamo messi di merda perchè non ho cura e non ho niente io ho solo 3 scudine hm siamo contro 3 4 no no il davanti è qui dovremmo girare la scada non lo vedo più non lo vedo più li vedo li vedo mi sembra la mi sembra si spariamo ti ha tolto 26 non vedo se hai un amico è uscito? no si si è uscito è andato dietro eh ah io posso uh preso ah dai mori ho visto un altro volare tipo qua si sul ponte è morto cosa ho? ah no madonna scusa giro la scala colpicecchino ti servono se li hai no non li ho cioè non mi servono tieni ok sono chissà se sono della stessa squadra ecco sul ponte riusciamo a prendere quello abbiamo spostato se spostiamoci spostiamo montagna andiamo con la montagna là la scala mettiamola da dietro così è raggiungibile da qua va bene già ma io sto arrivato davanti come davanti? eh qui c'è c'è la parte che si può salire pensavo non ci fosse infatti per me quella lì è mamma cazzo dici vuoi cambiare montagna non ho capito cosa hai detto? eh quella montagna lì secondo me anche perché c'è sta il coso aspetta che qui c'è un botto di roba c'è un botto di scudini li prendo tutti chiesa spazio una cassa minchia quanta roba perfetto meno male che siamo andati qua boh eeeh va bene va bene andiamo finitura se non ho detto ci sta la cosa il campino come si chiama? la corda si penso che non saremmo gli unici per avere quell'idea no però secondo me se se andiamo su quella montagna forte vediamo dopo però una zona ancora in potremmo trovare riparo andiamo punto faccio uno scope c'è qualcuno c'è qualcuno no butti giù tutto vai 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 lancia granate occhio vai butta tu no no come si merda no poca vita ah bastardo c'ha pochissima vita quello con le ali tutto giù tutto vediamo rompi sta scala casca va lordo sei attaccato c'è una scala si una scala eh si lol non ci posso credere non posso curarti merda non ci sono punti per cui ah si si c'è c'è in fondo eh no è fuori è fuori è fuori quanto sono contro due già ehi si sicuro sulla destra sui strada in strada visto tutti e due la che attraversato si mi sta mirando si quello in strada si quello a sinistra perchè non vedo il riflesso però penso sia un'arma normale cioè una un assalto tonda non riesco a prenderlo porca puttana rompi il camper mi preoccupa l'altro suo amico ecco la lo vedo è ancora lì ha poca vita perfetto lo assalto lo assalto no tanto si deve muovere la safe quindi magari inizia a muoverti in safe oddio ma pure lui è bianco perca puttana adesso basta la vitraietta si oddio ma che cazzo mi sto incastrando mi sto incastrando ahhh 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 che lavora e col piccone col piccone vittoria si devo parlo col piccone effettivamente questo è per te come porto le granate ballerina che altro sto a morire me la tiro sotto il piedi beh come il nemico non ci possiamo uccidere devi tu e lo uccidi ma tra l'altro quel coglione di prima si è ammazzato da solo ti ha dato l'uccisione a te è vero è caduto è morto non lo so è morto da una caduta quindi non so è morto da una caduta da te la uccisione mmm non ci ho fatto caso a me non l'ha data quindi mi sa che è morto da una caduta cioè no è per forza morto da una caduta pensa che è scemo in cibo in cibo in cibo in cibo Grazie per la visione!